La musica e i bambini per me, negli anni, sono diventati un binomio indissolubile e fare il mio mestiere e riuscire a farlo con i bambini lo considero un traguardo, un privilegio. La musica e le sue vibrazioni danno ai bambini sensazioni piacevoli, catturano l'attenzione e stimolano le percezioni. Poi ho incontrato la lega del filo d'oro che da più di 50 anni si prende cura dei bambini sordo ciechi. E' una realtà difficile che però mi ha conquistato ed emozionato. Il percorso di riabilitazione è studiato individualmente affinché ogni bambino possa entrare in relazione con il mondo esterno e con la sua famiglia. Anche la musica fa parte di questo percorso, aiuta i bambini e i ragazzi sordo ciechi ad uscire dallo risolamento. Insieme abbiamo l'opportunità di aiutare la lega del filo d'oro e credo che questa sia la storia di Mani più bella che possiamo scrivere. Scriviamo insieme una bellissima storia di Mani. Con una donazione al 45514 i bambini sordo ciechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.